...fortemente voluta da questa amministrazione e si è concretizzata. Si è concretizzata e io ritengo che d'ora innanzi ci sia un qualcosa in più in Valle Soana. Alla festa di Ronco il 25 inaugureremo il nuovo ponte dalla piazza che ritorna sul vecchio sentiero. Abbiamo avviato la progettazione del nuovo palazzo comunale, già una parte appaltata. Abbiamo il programma, ma questa sarà cosa per quelli che verranno dopo di me, di realizzare un banco avventura qui a Ronco. Tutte opere che sono già finanziate, quindi opere che ci andrà qualche anno sicuramente, ma che comunque contribuiranno ad arricchire ancora di più il nostro paese. Grazie a tutti. Grazie a tutti, buon rinfresco, buon proseguimento e a quelli che sono venuti, benvenuti a Ronco, agli altri che si fermano, buone vacanze in Valle Soana. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie a tutti.